Non scrive, incide. Nuove tenerezze alla mandorla, mulino bianco. Nate per addolcirti la vita. Condannato per sempre in un carcere. È la tua vita che vogliono. Condannato, ma non vinto. C'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare. Ancora pronto a sperare. Tu credi che uscirai mai da qui? E a sognare. Alcuni uccelli non sono fatti per la gabbia, questa è la verità. Su Rete 4, un appuntamento di grande cinema. Con Tim Robinson e Morgan Freeman. Le ali della libertà. Domani alle 20.50 su Rete 4. I profumi della natura, dell'aria più fresca, della vita all'aria aperta. Sono le essenze più fresche che trovi racchiuse in aci aria di montagna. La candeggina con un tocco di profumo. Per darti un bucato senza ombra di macchia. Con tutta la sicurezza della tua ace di sempre. Ace ha catturato per te le fragranze della natura. Ace aria di montagna. Freschezza pura. Bucato senza macchia. ETA 1000. Test clinici hanno evidenziato che ETA 1000 compresse riduce la profondità delle rughe. Aumenta l'elasticità della pelle. Migliora l'idratazione cutanea. ETA 1000 per una pelle senza età. Da Rudin in farmacia. Sì? Mago Diego, c'è una ragazza che vorrei conquistare. Sotto i funghi buitoni. Sette minuti ed è fatta. Com'è? Il capolavoro. Buitoni, star bene a tavola. Quando uno è mago, è mago. Di che buongiorno sei, sognandolo saprai. Nei sogni desideri diventa realtà. Buongiorno Loacker, il nuovo piacere a colazione. Il suo fabbisogno nutrizionale cambia di mese in mese. E i ricercatori Mellin studiano gli alimenti più corretti per ogni fase della sua crescita. Così hanno inventato la prima carne, il liofilizzato Mellin. Ed è la stessa ricerca che oggi ti dà l'omogeneizzato di carne nutrizionalmente più corretto. Perché contiene un ingrediente unico. Tutto il nostro sapere. Impareremo a camminare Mellin. Ricerca e nutrizione. Fatta con le mie mani. E con voglia di uncinetto kit. I fascicoli con mille idee facili per vestire e arredare. E in più il kit per creare subito gli oggetti più originali. Fatta con le mie mani. Voglia di uncinetto kit. In edicola con il kit per creare la borsetta. Solo un euro e cinquanta. Fabbrico Ingrignasco. Ancora un altro ferro fatto fuori. Dal pericolo calcare. Cerchi qualcosa che duri di più. Il nuovo Roventa Professional Laser. Ha il sistema anticalcare integrato. E la piastra ad alta resistenza. Nuovo Roventa Professional Laser. Prestazioni che durano. Roventa. Per chi non si accontenta. L'uomo Conad sarà in Liguria per la raccolta delle riveteggiasche. L'uomo Conad glielo passo. Ottimo lavoro mio caro. Sapori ed intorni. Conad. La qualità lascia il segno. Vuoi rinnovare la tua casa? Leggi Come ristrutturare la casa. Bimestrale in edicola a soli 3 euro. Come ristrutturare la casa è una pubblicazione gruppo editoriale Faenza Editrice. Incredibile cosa può fare la stanchezza che si accumula. Quando sei stanco, debilitato e hai carenza di vitamine, puoi ricaricarti con Supradin, il multivitaminico ad alto dosaggio con minerali e oligoelementi. Con Supradin ritroverai tutta la tua carica. Anche tu puoi ricaricarti con Supradin. È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. Testiamo il nostro latte all'origine. Testiamo la migliore frutta fresca. Iomo. Lo yogurt sa di yogurt. La frutta sa di frutta. Lo yogurt controllato e certificato. Fiii! Iomo! In 44 gusti. Tavernello è il nostro vino preferito. Mette in tavolo ogni giorno l'appetito. Per festeggiare i suoi vent'anni, Tavernello ti premia con dieci splendide bariure e mille morbidi scaldotti. E a estrazione, un solitario da un carato, uno a R. Cancella e vinci subito. Tavernello. Da vent'anni. A tavola con te. Nuovo mascara volume sprint di Deborah. In quattro sfumature di nero. Perché solo Deborah ti colora la vita. Una cosa velocissima! Mi dia solo un minuto! Abbonato a Infostrada? Sì! E tutti i minuti che vuoi! Tutti i minuti che vuoi con Minuto Zero Infostrada. Il primo minuto di conversazione da casa. Non si paga. Ore e ore di minuti gratis per urbane e interurbane. E vale anche per due telefonini wind! Oggi c'è un modo molto piacevole di svegliarsi. Le nuove nastrine. Ancora più soffici. Ancora più fragranti. Nastrine e mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Si concede qualche intermezzo sentimentale alla Mimi Bluette. Sì, a Pilotti. Cervinia 70-180 Montecampione 10-50 Cortina 10-90 Madesimo 90-120 Courmayeur 40-150 Ortisei 10-70 Latuil 50-160 Vigo di Fassa 50-70 Madonna di Campiglio 50-160 Ponte Chienale 10-40 Livigno 20-115 Campo Imperatore 50-120 Passo del Tonale 100-140 Terminillo 0-30 San Martino di Castrozza 20-60 Chiesa Valmalenco 40-100 Sauce Dulx 40-120 Santa Caterina Valfurva 70-100 Serba di Cadore 30-100 Barzio 70-90 Nuove tenerezze alla mandorla Mulino Bianco Nate per addolcirti la vita La sua grande voce La sua umanità Felicità E un bicchiere di vino Con un panino La felicità La sua storia E lasciato un biglietto Dentro a cassetto La felicità Alba Storie d'amore Storie d'amicizia Lunedì alle 20.45 Su Rete 4 Accarezzati È nata Touch Il suo sistema idrata E ristruttura la pelle Rendendola più setosa E morbida al tatto Oilo Volaz Ama la pelle che hai Foxy presenta Sì Sirano Hai naso in irritato Chi è stato? Ho udito un buato Solo uno starnuto Cugino caro Io ho qualcosa per il vostro naso Il mio naso è un argomento delicato Questo non lo irriterà di certo I fazzoletti ipoallergenici Foxy Contengono cellulose talmente delicate Che rendono minimi i rischi di irritazione Grandioso Come il tuo naso Fazzoletti ipoallergenici Foxy Sfidano le irritazioni Non sei raggiunto dalla DSL? Sat DSL NetSystem Solo 30 euro al mese Anche dove gli altri non arrivano Vai sul sito Sempre in forma Con tutti i 16 gusti di Ritter Sport Prova Ritter Sport Bianco nocciole intere Quadrato Pratico Buono Un pizzico di sale E aggiungi Nuovo Prealpi Con il 75% Di colesterolo in meno Insomma basta con questi messaggini Ricevuto Il segreto è il Nuovo Prealpi Nuovo Prealpi Con il 75% Di colesterolo in meno La porcellana Sempre fine Delicata Collezione Capodimonte Una collezione rara Ed esclusiva Di pezzi unici Di pregevole fattura Dipinti a mano Nel più perfetto stile Capodimonte Collezione Capodimonte E ne dicola Solo i 3 euro Con il vaso di rose rosse De Agostini De Adonna Di che buongiorno sei Sognandolo saprai Nei sogni desideri Diventa realtà E quando arriva il giorno Scoprilo anche tu Svegliarsi coi buongiorno Tanta crema Crusca di avene grano E una cialda che resta croccante Possibile che sognate soli buongiorno Buongiorno Loacker Il nuovo piacere a colazione Cos'è andato storto questa volta? Il detergente Il brillantante Il sale Oggi c'è Finish Powerball 3 in 1 Tutto in una sola pastiglia E tecnologia Powerball Basta Farsi in 3 Affidati a lui E non pensarci più Finish Powerball 3 in 1 Tutto per il pulito insuperabile Cosa cerca chi ama la pasta? Un sugo speciale Così nasce il pesto alla genovese Barilla Sughi Barilla Nati da cent'anni d'amore per la pasta Sono questi gli schizzi Che ci fanno impazzire Ma per fortuna c'è Tenderly Che ci aiuta a pulire Tenderly! Guardate i cuscinetti Sono super assorbenti Lui assorbe come un pazzo E non ci sono spaventi Con Tenderly la vita È molto divertente Perché Tenderly casa È resistente Tenderly! Guardalo e scendi Lo prendilo e via Tenderly casa Strappa la monotonia Tenderly casa con cuscinetti assorbenti Tenderly è casa mia Sarà perché è primavera Sarà perché è melunga Ma un divano così A un prezzo così Non si era mai visto E non solo divani Ma anche soggiorni Tavoli di ogni dimensione Librerie di ogni stile e misura Primavera fiorisce Nei negozi M.Lunga Informati al numero verde O sul sito internet M.Lunga Arredamenti Bentornati a casa Ma tu non digeriri il latte? Mmh E allora che accade? Accade che accade? HD HD Il latte digeribile Da tutti Senti Il latte digeribile Il latte digeribile Senti 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 Un minuto Solo un minuto Apporato infostrada Sì Tutti i minuti che vuoi Tutti i minuti che vuoi Con minuto zero infostrada Il primo minuto di conversazione da casa Non si paga Ore e ore di minuti gratis Per urbane e interurbane Anche per l'interurbane? Ah certo Iollolo Oh yeah Ricola senza zucchero Una delizia naturale per la gola Quando proteggo ciò che amo Voglio la massima delicatezza Per questo scelgo Infasilintimo È clinicamente testato Per aiutare a proteggermi dalle irritazioni E da oggi È approvato dai ginecologi ospedalieri italiani Infasilintimo Un grande istinto di protezione Con tutti i Nuove tenerezze alla mandorla Mulino bianco Nate per addolcirti la vita Su rete 4 Galatasaray e Barcellona Si affrontano nello scontro di ritorno Per accedere ai quarti di finale di Champions League Sarà una partita accesissima Perché l'imperativo per entrambe è vincere La Roma, capolista del girone Affronta fuori casa il Liverpool Costanti collegamenti con lo stadio inglese Verranno informati i tifosi giallorossi Sull'andamento della partita La Champions League è su rete 4 Galatasaray, Barcellona Martedì alle 20 e 30 Dal primo febbraio con Telecom Italia Dopo le 18 e 30 Le interurbane costano il 47% in meno Come nel weekend Eccogli sci E come ci andiamo? Eccolo... Tupalle Ma tu non digerivi il latte E allora che accade? Accade che accade? H.D. H.D. Il latte digeribile da tutti Foxy presenta Sì! Sirano, hai il naso irritato Chi è stato? Ho udito un buato Solo uno starnuto Cugino caro, io ho qualcosa per il vostro naso Il mio naso è un argomento delicato Questo non lo irriterà di certo I fazzoletti ipoallergenici Foxy Contengono cellulose talmente delicate Che rendono minimi i rischi di irritazione Grandioso! Come il tuo naso! Fazzoletti ipoallergenici Foxy Sfidano le irritazioni Facciamo un dolce? Lievito pane degli angeli Chi fa dolci Il cielo aiuta Feschiamo i tonni salvando i delfini Alleviamo il bestiame solo con mangimi vegetali Crediamo nel rispetto della natura E nelle coltivazioni biologiche In poche parole facciamo tutto Ma proprio tutto quello che faresti tu Solo un po' meglio Perché la Coop sono loro Siamo noi Sei tu Collezione Capodimonte Una collezione di pezzi unici Dipinti a mano nel più perfetto stile Capodimonte Collezione Capodimonte E ne dico la soli 3 euro con il vaso di rose rosse Chicco Trio Transformer Scusi, me lo puoi guardare? Grazie alla sua esclusiva tecnologia Chicco 2003 Trio Transformer Si trasforma da carrozzina a poltroncina auto E da poltroncina auto a passeggino Sorrida, è una telecamera nascosta Chicco Carrozzina, poltroncina auto a passeggino Chicco Trio Transformer Tre prodotti in uno Col biscotto fragante La merenda è nutriente Quickstop Quickstop La nuova merenda Salsone Uno, due, tre Triplosimac Con un dito e una sola spazzo La Triplosimac aspira la polvere Con tanto vapore scioglie lo sporco E subito se lo porta via Triplosimac Tutto pulito Con una sola spazzola Ah, la nuova colfa Buongiorno Ah, ma parla italiano Mi segua A casa usiamo solo rio melaceto Aceto di mele detergente Deve sgrassare la bella o fornelli Niente ci fa Melaceto ce la fa Forno frigo Niente ci fa Melaceto ce la fa Pulire, di odorare Niente ci fa Melaceto Ha proprietà anzi calcare Sgrassanti ed elimina cazzo di odore Sono docente di chimica Anche la sua nuova vicina Sono un cretino Niente ci fa Rio melaceto ce la fa Quando la pelle cede Il viso appare invecchiato Rock presenta Protein Lift Un'esclusiva tecnologia brevettata Protein stimola i fibroblasti Per tendere la pelle Resultato Lifting della pelle Viso rimodellato In otto settimane Visibilmente Nuovo Protein Lift Rock mantiene le promesse Fratelli Siamo qui per parlarvi d'amore E tu sia ricordia La nostra anima è puret candida Ma le tentazioni Come queste patate saporite di quattro salti in padella Come resistere bambina mia? Il rosmarino E la doratura perfetta E le tentazioni manno estirpate E le mie agge Ma stanno mangiando le patate Senta figliola Senta Bene Ora che sono salvo possiamo andare Peccato per le patate Ecco Il peccato C'è appena in tempo Quattro salti in padella Findus Quelli buoni Per davvero Vi rinforzate ogni mattina Ok ragazzi C'è bisogno di noi Superfermenti avanti Obiettivo rinforzo Eh sì Acti Melidanone Con più di un miliardo di superfermenti vivi Aiuta a rinforzare le difese naturali Perché nella vita L'importante è essere forti dentro Acti Melidanone Il tuo rinforzo in mattina Effetti positivi testati scientificamente Come la natura crea delle barriere difensive Così il tuo corpo protegge le parti intime con l'acido lattico Anche Lactacid Intimo Contiene lo stesso acido lattico Così ti protegge come fa il tuo corpo Lactacid Intimo Naturale Come il tuo corpo Cosa cerca chi ama la pasta? Un sugo speciale Così nasce il pesto alla siciliana Barilla Sughi Barilla Nati da cent'anni d'amore per la pasta Conosce tutte le sfumature della mente umana Sono un psicologo e psicanalista Nei suoi occhi l'assenza di colori C'era tanto di quel sangue E io ora il rosso Non lo distingo Macchie cieche Uno dei miei pazienti è morto Persone o fatti che entrano nella vita Quattro nevrò di cercare livelli di gravità E un assassino E non vengono visti Emozioni con cui non si può prendere contatto Negare il rosso E non vedere la passione Io non ti conosco Bruce Ellis Non so chi sei Qual è il colore della notte? Mercoledì alle 21 Su Rete 4 Locote Il più grande assortimento di farine speciali E originali decorazioni per dolci Inaugura il mausoleo di Marconi Nuove tenerezze alla mandorla Mulino bianco Nate per addolcirti la vita Condannato per sempre in un carcere È la tua vita che vogliono Condannato Ma non vinto C'è qualcosa Dentro di te Che nessuno ti può toccare Ancora pronto a sperare Tu credi che uscirai mai da qui? E a sognare Alcuni uccelli non sono fatti per la gabbia Questa è la verità Su Rete 4 Un appuntamento di grande cinema Con Tim Robinson e Morgan Freeman Le ali della libertà Domani alle 20.50 Su Rete 4 Siamo Siamo Solo un minuto Ha volato infostrada Sì Tutti i minuti che vuoi Ore e ore di minuti gratis Per urbane e interurbane Con Minuto Zero Il primo minuto di conversazione da casa Non si paga ETA 1000 Test clinici hanno evidenziato Che ETA 1000 compresse Riduce la profondità delle rughe Aumenta l'elasticità della pelle Migliora l'idratazione cutanea Incrementa la luminosità della pelle ETA 1000 Testato Efficace Sicuro È un segreto? ETA 1000 Per una pelle senza età Da Röder In farmacia John John, questa strada l'ho già vista Guarda che qui ci siamo già passati Dai, adesso proviamola a 2002 Nuova gamma Saab 95 turbo diesel 3000 e 2002 Provatela negli showroom Saab John Braille Stones Per questo va dritto all'ingorgo E non danneggia i tubi E per gli scarichi lenti Mister Muscolo Schiuma Attiva Si espande nel tubo Liberandolo fino in fondo Visto? Mister Muscolo idraulico gel e schiuma attiva E lo scarico respira Fernet Branca Carattere dominante Carattere dominante Fatta con le mie mani E con voglia di uncinetto kit I fascicoli con mille idee facili per vestire e arredare E in più il kit per creare subito gli oggetti più originali Fatta con le mie mani Voglia di uncinetto kit In edicola con il kit per creare la borsetta Solo un euro e cinquanta Fabbri con grignasco Chi gioca nell'altra squadra? C'è solo che una partita di beneficenza Ah, tipo partita del cuore? Del sacro cuore Sorelle, se volete, siete ancora in tempo? Tu non preoccupa Noi abbiamo sorella che con palone fa miracoli Miracoli! Tutto bene? Puoi sapere il tuo oroscopo, le ultime notizie o tutto sulla tua squadra del cuore? Chiama il 4444 Canzone! Con team, basta la tua voce Bani, 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 bani score, bani score Brown Syncro è il rasoio Brown che rade più a fondo E il suo sistema di pulizia automatico lo lascia così pulito da avere la sensazione di un rasoio nuovo ogni giorno Acquista un rasoio Brown Syncro Puoi vincere 5 home cinema JBC e migliaia di palloni da calcio Brown, creato per fare la differenza Cosa cerca chi ama la pasta? Dei sughi speciali Così nascono il pesto alla siciliana, alla calabrese e alla genovese Barilla Toglietemi tutto, ma non il mio Braille Nuova DAE V Matiz, progettata intorno a te Non sei raggiunto dalla DSL? SAT DSL NetSystem, solo 30 euro al mese, anche dove gli altri non arrivano Vai sul sito Quando la pelle cede, il viso appare invecchiato ROC presenta Proteant Lift, un'esclusiva tecnologia brevettata Proteant stimola i fibroblasti per tendere la pelle Risultato, lifting della pelle Viso rimodellato in 8 settimane Visibilmente, nuovo Proteant Lift ROC mantiene le promesse Vediamo se ti ricordi questo Kimbo Aroma Italiano Che c'è chito qui sotto? Piacere pieno e morbido E se tu lo ricordavi? Ma lo smemorato sei tu Mica it Kimbo E chi so, scuola I predatori della prestigia Da giovedì 18 aprile alle 20.45 Su Rite 4 La violenza è in assoluto una cosa spaventosa Soprattutto se rivolta a chi non può difendersi Oggi chi maltratta, tortura o addirittura uccide un animale Rischia solo una piccola multa Gli animalisti italiani stanno cercando di fare approvare una legge contro il maltrattamento degli animali Che prevede delle piene più severe Come negli altri paesi Gli animali sono esseri viventi Non oggetti Soffrono Come noi Difendeli Aiuta questa iniziativa Basta una firma Basta una firma Buonasera a tutti amici Si conclude la settimana cinematografica in compagnia dei bellissimi Con il thriller Black Heart Un tv movie di Dominic Schock Annette una donna affascinante Spalleggiata da un complice Usa tutta la sua arte per sedurre uomini facoltosi E poi derubarli Anche un detective cade nella sua trappola Ma la donna che si sente scoperta Lo uccide Abbandonata dal complice Che non vuole essere implicato nell'omicidio Annette farà di tutto per vendicarsi Ed ora mi resta che augurarvi una buona visione E darvi appuntamento al lunedì prossimo Per un'altra splendida serata Insieme al cinema di rete 4 Non mancate Vi aspetto Ciao La natura è ricca di principi benefici E la sapiente tradizione erbolistica Solimè Li ha racchiusi in una gamba completa di prodotti naturali Per soddisfare ogni esigenza Come il famoso Gelle Vital Una preparazione apistica ad alto valore biostimolante Indicata per aumentare la resistenza dell'organismo A primavera ad esempio Sentiamo tutti l'esigenza di una carica in più E Gelle Vital grazie alla sua composizione bilanciata A base di miele d'eucalipto italiano Polline, propoli e pappa reale fresca Ci dà una sferzata di energia naturale Senza provocare stati di agitazione Gelle Vital è adatto a tutte le età E per chi pratica sport C'è Gelle Vital forte Arricchito da ginseng e dechinacea Ideale per un più rapido recupero delle energie Solimè, la tradizione erboristica Nuove tenerezze alla mandorla Molino bianco Nate per addolcirti la vita Andrea e Lorenzo Due poliziotti Uno con poche esperienze e molte regole L'altro con poche regole Ma molta esperienza Insomma, Nazaro Bisogna che ti dai una calmata Insieme per una missione pericolosa Ma che è questo che dobbiamo piantonare? È un pezzo grosso della madre E quando il peggio può accadere Spesso il peggio accade Claudio Amendola Kim Rossi-Stewart Michele Placido Poliziotti Domani alle 23.15 Su Rete4 New Nissan Primera Un nuovo film di intelligenza Vuoi rinnovare la tua casa? Leggi Come ristrutturare la casa Bimestrale in edicola Soli 3 euro Come ristrutturare la casa È una pubblicazione Gruppo editoriale Faenza Editrice Fratelli! Siamo qui per parlarvi d'amore E tu mi sei ricordia La nostra anima è pure Candida Ma le tentazioni Come queste patate Saporite di quattro salti in padella Come resistere, bambina mia? Il rosmarino E la doratura perfetta E le tentazioni Ma noi stirpate E i miei agi